Gentili telespettatori, buona giornata. Ecco vediamo tutte le tasse che saranno cancellate, le chiamano microimposte. Il superbollo, ma anche la tassa sugli intrattenimenti, la tassa di laurea e quella sugli esami universitari, oltre agli interventi sul lavoro. Il governo punta a dire addio alle microimposte con effetti mirati sulle tasche degli italiani. Tra gli emendamenti all'esame della Commissione Finanza e Bilancio spunta anche la cancellazione di piccole tasse e imposte. Non è la prima volta che in Italia si parla di questo. Le auto di grossa cilindrata non avranno più il superbollo. Verrà azzerato. Era per chi aveva una macchina di una potenza superiore a 180 kilowatt. Una tassa che costa 20 euro per ogni kilowatt oltre i 185. In base a quanto dichiarato da Andrea De Bertoldi, deputato di Fratelli d'Italia, la misura dell'azzeramento potrebbe essere introdotta in un emendamento oppure inserita in un provvedimento maxi che comprenderà una lista di tante altre micro tasse. Nel caso di un'autovettura con potenza pari a 250 kilowatt, l'importo da azzerare sarebbe di circa 1.300 euro. In questo range rientrano auto come l'Audi S4 turbodiesel o per BMW i modelli M340 diesel, ad esempio. Poi andiamo a vedere la tassa dell'università. C'è la tassa sulla laurea da versare al momento dell'immatricolazione e per l'iscrizione negli anni successivi al primo, un'imposta che ad oggi vale circa un milione di euro l'anno. Nell'esecutivo si discute anche sull'azzeramento delle microimposte per il rilascio dei diplomi, per gli esami di idoneità e per l'iscrizione a scuola, tasse che valgono circa 44 milioni di euro sul bilancio dello Stato annuale. A venire cancellate potrebbero essere anche le imposte sugli apparecchi di intrattenimento che non erogano vincite in denaro. Ad esempio, fino ad oggi c'è stata la tassa sui flipper, sul calcio balilla, sui biliardi, biliardini, circa 96 mila euro in Italia. Per calcio balilla e apparecchi similari, la base imponibile è oggi di circa 510 euro con una liquota fissa all'8%. Con l'abolizione dei microtributi, come ha ricordato il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, l'arario perderebbe in totale 152 milioni di euro. Però almeno sfoltiamo un po' di tasse sciocche. Il vice ministro dell'economia, Leo, ha poi ribadito la volontà di intervenire sul fronte del lavoro con il taglio delle tasse sulla tredicesima. Si parla del 2024, quindi sulla tredicesima del prossimo anno, non questo Natale, ma del prossimo, quando comincerà ad essere attuata la delega fiscale. In essa si prevede anche la flat tax incrementale per i dipendenti, cioè ti faccio pagare una tassa più bassa solo sul reddito in più rispetto all'anno precedente. Insomma, se l'anno scorso hai guadagnato 28 mila euro lordi e quest'anno ne guadagni 28 mila 300 euro. Su quei 300 euro, al posto che pagare, non so, l'aliquota al 27%, ti faccio pagare il 15% e ti metti in tasca qualche soldo in più. Beh, insomma, la cancellazione delle microtasse va bene. Sono quelle tasse che uno non si accorge, ma quando vai a iscrivere per l'università ti trovi quello 0,40 centesimi di tasse e dici, ma cos'è? Eh, somma, quei 0,40, tanti altre tasserelle così, lo Stato rilascia comunque 150-160 milioni di euro nelle tasche degli italiani. diviso 60 milioni si tratta di come 2 euro e mezzo a testa, se non sbaglio, no? Sì, 2 euro e mezzo a testa di media in più all'anno in tasca, togliendo 160 milioni di euro in meno. Poi la tassa sulla tredicesima vedremo, perché da qua al prossimo dicembre ne succederanno di cose che vedremo se ci saranno i soldi per fare quello, per rinnovare il taglio del cuneo fiscale. Insomma, diciamo che la Meloni dice di aver fatto un programma è un programma molto dettagliato a lungo periodo, quindi un programma abbastanza preciso su quello che saranno gli step e le riforme da fare. Quindi lei si è fatta tutto un programma di mezzo, poi ci sono le elezioni europee che purtroppo, come vi ho raccontato, interferiscono sul programma del governo, ad esempio come il tentare il blocco delle partenze è un qualcosa che viene rimandato per prima vincere le elezioni europee, perché se il blocco navale lo fai prima di vincere le elezioni europee, il punto è che non le vinci e allora si aspetta il dopo elezioni. Vedremo quello che realmente succederà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, anche perché quello che è sicuro è che questo governo andrà avanti, durerà per tutta la legislatura, anche perché non vedo oggi problemi di sorta in arrivo da Lega o Forza Italia, non credo che ci siano dei problemi all'interno del governo. La Meloni è saldamente al comando di questa maggioranza e ha il controllo. Il punto sarà cercare di non deludere l'elettorato, perché sono quelli che poi veramente ti confermeranno per una prossima volta. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete, dove poi trovate video di politica, di notizie, e poi tutti questi video di due canali, Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete, sono poi nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove lì, se vi sono interessati, li potete condividere con chi volete. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.